Il mondo che vorrei La provincia di Ascoli Piceno organizza anche quest'anno, come fa da 13 anni, l'asta della solidarietà. Infatti il 14 dicembre saranno messe all'asta centinaia di opere d'arte donate da altrettanti artisti. Il ricavato servirà a progettare molti piccoli progetti, piccoli ma importanti, perché potranno servire a cambiare la vita di molte persone. Perciò partecipate anche voi all'asta della solidarietà il 14 dicembre prossimo. Grazie a tutti.